La fontana di Piazzale Marconi, emblema della scarsa attenzione dell'amministrazione comunale per Chieti Scalo, muta e malandata, sta lì a dimostrare di quanto poco interessi questa parte, più importante della città, con più del 70% dell'intera popolazione. Chiusura del distretto sanitario di base, delegazione del comune in Piazza Carafa praticamente chiusa, manutenzione ordinaria assente dalla semplice pulizia, ritiro della spazzatura, fino all'ammaloramento di strade in marcia a piedi, è come se non bastasse. Ecco i parcheggi a pagamento in Piazza Carafa, ecco come appariva stamani, in un orario di punta, stalli vuoti per la buona pace dei commercianti, soprattutto quelli di Via De Vergilis, che si vedono fortemente penalizzati, tanto da dar vita ad una petizione contro questo provvedimento. Il comune se pensa di fare cassa con queste strisce blu, possiamo anche girarci intorno, non ci parcheggeranno mai qui perché è fuori zona, diciamo, strettamente commerciale. Certo i commercianti di Via De Vergilis sono quelli che ne patiranno di più le conseguenze perché sono quelli a ridosso della piazza, però ripeto, sono convinta che è una cosa inutile come sarebbe stato inutile il parcheggio sotterraneo, una spesa enorme e inutile perché, ripeto, qui ci sono due plessi scolastici, bisogna mettere in sicurezza quel tipo di traffico, non pensare di guadagnare su questo. Oltretutto la delegazione è anche chiusa. Un'amministrazione comunale sorda è per di più spocchiosa e arrogante nei confronti delle legittime istanze dei residenti di Chieti Scalo. Così dicono i cosiddetti scalini, come se a Chieti ci fossero cittadini di Serie A, quelli sul colle in cima alla nube dell'Olimpo e quelli in pianura che, ricordiamo, sono circa 35.000 rispetto ai complessivi 47.000 abitanti di Chieti. I problemi sono tantissimi, tanti, 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 ma abbiamo delle amministrazioni, sia quelle attuali che quelle passate, che non hanno mai fatto niente, è per incapacità, è per menefreghismo su questa parte della città, perché dimenticano che qui ci vivono 35.000 cittadini, che sono il 70% dei soldi che poi rientrano nella parte alta del comune. Manca il distretto sanitario di base, basilare prioritario come richiesta, perciò a breve ci sarà una richiesta ufficiale di convocazione per il presidente della regione, Massiglio, per l'assessore alla sanità, Veri, per il direttore generale dell'ASIL, Shael, e per il signor Ferrara, non sindaco, signor Ferrara, per discutere con noi cittadini di Scalo che cosa vogliono fare sul distretto sanitario di base. Ma non è l'unico. Altro problema grossissimo è la delegazione comunale. Ferrara deve capire che Chieti Scalo fa parte di Chieti.